Doveva essere un giorno da ricordare, magari per il cambio dell'Inno d'Italia, all'inaugurazione dell'Expo, con quel Siamo pronti alla vita anziché alla morte, cantato dai bambini e poi ribadito da Renzi, in apertura del suo discorso. L'Italia se desta, Siamo pronti alla vita. Invece gli incidenti, feriti, danni provocati dai Black Block nel centro di Milano, hanno cambiato la sceneggiatura della giornata. Una violenza stolta e malcontenuta dalle forze dell'ordine, che danneggia anche chi è critico verso un Expo, che alcune riserve se le merita. Lo ha detto il Papa nel suo messaggio all'apertura, che questo era ancora l'Expo dei tanti privilegiati rispetto ai troppi affamati. L'Expo è un'occasione propizia per globalizzare la solidarietà. Renzi ha detto invece. Oggi inizia il domani, anche a Milano, la carta di Milano che andremo a firmare va esattamente in questa direzione. È riuscito ad aprire anche il padiglione della Toscana, in cui campeggia all'insegna l'inglese, da secoli viviamo nel futuro, ma che ha rischiato di non avere un suo presente al momento dell'inaugurazione. Tutto puntato su effetti di alta tecnologia e quindi bisognosi di essere settati per giorni. E invece la macchina dell'Expo ha consegnato i locali a due soli giorni dall'inizio, sporchi e pieni di macerie, e addirittura ha lacciato la corrente solo giovedì mattina. Non si escludono contenziosi. Appena finita la cerimonia inaugurale, Renzi era atteso nel padiglione della Toscana e a chi l'ha chiamato ha assicurato che sarebbe passato più tardi. Invece non si è visto, mentre oltre al presidente Enrico Rossi hanno visitato a lungo il padiglione, annusando gli odori della Toscana e ascoltandone i suoni, il ministro Andrea Orlando, Rosi Bindi, il viceministro Riccardo Nencini, l'europarlamentare Simona Bonafè e un Vittorio Sgarbi che ha apprezzato il padiglione e la Toscana in generale, ma ha promosso anche l'Expo, con unica stroncatura all'albero della vita che in effetti appare troppo kitsch per essere vero. È in realtà un enorme totem tecnologico che spara bolle di sapone, fumo tricolore, si riempie di fiori e coccardone e poi le fa sparire improvvisamente. Fa talmente tante cose che alla fine aspetti, o speri, che si trasformi in mazinga e decolli scomparendo nel cielo.